Siamo con Enrico Ferrari, classe 98, capitano della formazione allievi elite dell'Ossia Mare di Mr. Patanella. Buon pomeriggio Enrico. Buon pomeriggio. Enrico, allora manca pochissimo ormai all'inizio del campionato. L'esordio sarà domenica mattina alle 10.30 contro il Rieti. Come state e come vi state preparando per questo match? Ci stiamo preparando molto bene, abbiamo molti infortunati, ma cercheremo di fare il nostro meglio contro il Rieti. Anche se è una buona squadra, cercheremo di vincerla. Abbiamo visto l'allenamento odierno, ormai manca pochissimo. Parlaci un po' di questo gruppo che si è formato e che sta lavorando per partire alla grande e per fare una bellissima stagione. Il gruppo è un gruppo importante, con giocatori molto bravi e cercheremo, come ho detto prima, di vincere questa partita. Come hai detto te, ci saranno delle assenze per infortuni, ci saranno anche degli squalificati, tra i quali Alessandro Spanocchi, che è stato tra i protagonisti al torneo appena concluso con il secondo posto al Superga. Abbiamo fatto un torneo importante, siamo arrivati in finale. Ci dispiace per la sconfitta in finale, che è arrivato con un risultato netto per gli avversari. E niente, però abbiamo fatto un bel torneo, abbiamo vinto con squadre importanti. Cercheremo di ripeterci in campionato. Come è andato il lavoro con mister Patanella fino a questo punto? Il mister è preparatissimo. Io, come lo scorso anno, mi sono mangiato molto con questo mister. E niente, cercheremo di ripetere l'annata che hanno fatto i 97, che sono arrivati in finale. Cercheremo di vincerla la finale. E come sta Enrico Ferrari? Ho avuto una piccola botta, ma cercherò di rientrare presto con la squadra. D'accordo, allora, in bocca al lupo per l'inizio di questo campionato. E naturalmente speriamo di fare grandi cose tutti insieme. Ok, grazie. Grazie Enrico. Siamo con Alessio Centi, capitano dei 2000, i giovanissimi elite dell'Ossia Mare, che tra pochissimo inizieranno il campionato, domenica alle 9, contro l'Aurelio Fiamme Azzurre, qui a Lancomarzi. Buon pomeriggio Alessio. Buonasera. Alessio, allora, raccontaci un po' come state vivendo questi momenti che precedono l'inizio del torneo. Beh, prima dell'inizio del campionato, ovviamente c'è sempre un po' di tensione per la prima del campionato. Però, nonostante detto, siamo diventati un buon gruppo, ci siamo subito affiatati e ci stiamo preparando bene per la prima partita. Oggi l'allenamento con il mister Cabriolu. Come sta andando con il mister? Raccontaci un po' come state vivendo con il tecnico. Beh, con il mister diciamo che abbiamo un po' un buon feeling, perché lui ci riesce a spiegare e noi a volte non lo capiamo. Quindi chiediamo spiegazioni a lui senza farsi il problema e ci lo dà. E del gruppo che cosa mi dici? Beh, siamo molto affiatati, siamo amici sia nel campo sia fuori dal campo e per questo abbiamo un buon feeling anche noi. E ci stiamo preparando molto per questa prima di campionato, che speriamo ovviamente di vincere. Per iniziare alla grande questo torneo e naturalmente con il capitano Centi che è pronto a dare il suo solito contributo difensivo. Allora, come sta Alessio e quali sono i propositi per questa stagione? Beh, io so bene. Anche in questa stagione speriamo di arrivare come minimo ai play-off. Almeno io spero di arrivare ai play-off. L'altro anno ci sono sfuggiti per una piccola partita che abbiamo sottovalutato troppo. Quindi quest'anno l'obiettivo è quello di entrare nel gruppo delle squadre che si contenderanno il titolo finale regionale. Allora, innanzitutto in bocca al lupo per questa prima sfida e naturalmente per iniziare alla grande. Una stagione che speriamo sia ricca di soddisfazione. Grazie. Grazie a te Alessio. Siamo con Alessio Iannucillo, responsabile del settore giovanile dell'Ossia Mare, che domenica farà il suo esordio in due delle quattro categorie presenti con gli allievi elite e i giovanissimi elite in campo contro il Rieti e l'Aurelio Fiammezzurre all'Ancomarzio. Buon pomeriggio Alessio. Buon pomeriggio. E benvenuto. Grazie. Allora Alessio, raccontaci un po' come stanno vivendo i ragazzi questo doppio esordio che naturalmente dà avvio al campionato del settore giovanile bianco-viola. Beh, la stanno vivendo sicuramente bene. Abbiamo fatto una buona preparazione, un buonissimo precampionato. Gli allievi o gli allievi abbiamo fatto finale al superbe, dimostrando che non siamo secondi a nessuno, anche perché difendiamo, siamo vice campioni regionali in carica, quindi è giusto che siamo in campo per difendere questa medaglia d'argento che ci siamo conquistati l'anno scorso sul campo. Abbiamo fatto un bel torneo, una bella sorpresa. Giovanissimi uguali, abbiamo fatto un precampionato non ottimo ma discreto. Abbiamo fatto un bel torneo, il Lorex Cup, il Nike. Potevamo fare un po' mai gli albini, però in circostanze particolari, insomma, questa è una squadra molto cambiata, abbiamo preso 8-9 giocatori nuovi, io credo che non è mai facile all'inizio quando si cambia così tanto. Mentre con gli allievi il blocco è un po' quello dell'anno scorso, più 3-4. Giovanissimi è un discorso un po' diverso, insomma, sono arrivati tanti giocatori nuovi, tanti giocatori, insomma, ragazzi nuovi e quindi, insomma, l'amalgama la stiamo trovando. Piano piano, siamo fiduciosi, insomma, sono partite sicuramente alla nostra portata, possiamo fare bene. Naturalmente, mettiamo in evidenza, come hai detto, sono arrivati i nuovi, sono andati via dei ragazzi che, naturalmente, grazie all'ossiamare e al lavoro che è stato fatto qui nel settore giovanile, adesso stanno giocandosi le loro carte nei professionisti. Sì, sì, come no, come no, noi quando un giocatore va nei professionisti lo facciamo sempre con piacere, è un'opportunità per loro, per noi, primis per loro, perché per noi, insomma, come vetrine, insomma, dimostriamo ogni anno che ci siamo anche noi, vuol dire che siamo ai massimi livelli, vuol dire che abbiamo giocatori tra i più bravi e quindi anche le squadre professionistiche che bussa la nostra porta per i nostri giocatori, come nel caso del 2000, dove abbiamo dato via, 5-6 giocatori, insomma, chiaramente abbiamo dovuto rimpiazzarli, non è mai facile rimpiazzare i giocatori che vanno al professionismo, però non ci lamentiamo. Il mese di ottobre, invece, porterà poi all'esordio delle categorie Elite Fascia B, naturalmente con i ragazzi di Ranese, gli allievi Elite Fascia B e i ragazzi di Mussoni, che è una new entry tra i tecnici bianco-viola del settore giovanile. Sì, allora, partiamo dagli allievi, per quanto riguarda gli allievi Fascia B di Mister Ranese, è una squadra dove penso faremo bene, perché è una squadra, comunque sia, c'è tutto il blocco dell'anno scorso, è una squadra che ha fatto le finali, ha fatto quarti di finale di campionata, ha fatto quarti di finale Beppe Viola, quindi è un gruppo forte, dove è stato migliorato con dei inserimenti mirati che servivano. Una squadra particolare, una squadra che gioca bene, non si fa mai mettere sotto, quindi bene, 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 veramente. Mentre il 2001, qua, diciamo, una nostra scommessa, abbiamo formato una squadra di giocatori che giocano a calcio, piuttosto che di giocatori alti con 80, grossi fisicamente, vediamo un po', non ci poniamo obiettivi, chiaramente è una salvezza tranquilla, è l'obiettivo minimo, poi cerchiamo, insomma, di fare un campionato, come dire, da mazza grande, cercare di fare da sorpresa del campionato, certo, non è facile, sappiamo che forse ad oggi con questa categoria non siamo al livello delle 3-4 top della regione, però, come ho detto, abbiamo fatto un percorso diverso, abbiamo scelto di fare una squadra di ragazzi che stanno a giocare a calcio, sperando di raccogliere i frutti nei prossimi anni, insomma. Con un tecnico giovane che è abituato anche a lavorare con i ragazzi. Sì, sì, è molto bravo sul campo, gli abbiamo dato questa categoria apposta, perché è un allenatore preparatissimo a livello tecnico, tattico, quindi penso sia il miglior modo per far migliorare i ragazzi giovani che sono delle spugne che devono imparare. Allora, per ora io direi che è tutto, facciamo un grande in bocca al lupo a Mr. Patanella e al tecnico Cabriolu per questo esordio di campionato di domenica mattina e naturalmente a te un buon lavoro e a tutto lo staff per una stagione ricca di soddisfazioni. Grazie tanto, grazie tanto e grevi il lupo. Grazie Ale. Grazie.